Questa è la maglietta per i 50 anni del Colbe. La storia del Colbe è strettamente correlata alla nascita di Borgata Lesna. Immaginiamoci questa città alla fine degli anni 50, stava crescendo vorticosamente, i bambini ce n'erano a bizzeffe, questo era un punto di ritrovo, questa vecchia Villa Lesna che risale al 1600, che ospitò la prima chiesetta e diventò anche il primo oratorio. Fu quasi doveroso creare il primo gruppo sportivo perché i ragazzi avevano bisogno di essere disciplinati, di essere seguiti. Quali sono stati i momenti epocali di questa associazione? L'inizio con la partenza proprio in questo oratorio e con l'attività sportiva di calcio di ragazzini di 13 anni e poi nel tempo la partenza del basket e soprattutto negli anni a venire la costituzione della polisportiva. Due attività agonistiche importanti come il basket maschile e la pallavolo femminile e l'attività ricreativa con la scuola di sci, con il gruppo sci, che ormai da 12 anni è un riferimento per la Borgata. Purtroppo mi ricordo anche di un nostro carissimo amico e compagno di giochi che era Paolo Chiarion che è mancato per una tragica avventura, disavventura. Subito dopo è nata l'idea di dedicargli qualcosa di importante e gli abbiamo dedicato il torneo Chiarion che per anni è stato il più bel torneo sicuramente di Torino. Per la città è stato importantissimo perché è rimasto a lungo tempo l'unico torneo estivo di valore e di importanza che poteva far vedere i migliori giocatori della zona. Ci ha giocato Pessina, ci ha giocato Vidili, ci ha giocato Boarolo, ci ha giocato gente che un paio sono andati in Serie A, altri comunque in Serie B, alti livelli. Una società che è una grande famiglia. Per sentimento, per cuore, per gioia di esserci. È nel cuore il Colbe. È una famiglia, fondamentalmente una famiglia. Io quando sono arrivato al Colbe mi sono sentito veramente a casa. Il Colbe è una passione. Punta molto alla crescita dei bambini, quindi li segue, li accompagna fino a farli diventare qualcuno. Chi era il signor Colbe? Era un santo. Era veramente duro giocare contro il Colbe, però era molto bello dopo il dopo partita, perché comunque ero sempre giocato contro amici con cui uscivo anche dopo la sera. C'era una grande combattività. Sono una bella società piena di tradizione, piena di voglia di stare in campo. Con la giusta mentalità e con la giusta qualità di lavoro siamo riusciti a ottenere dei risultati. Qual è il prossimo obiettivo? È quello di continuare a fare un certo tipo di attività e sperare di avere la possibilità, tramite gli enti pubblici, di avere un impianto sportivo di nostra gestione. Questo è il Colbe 50 anni dopo e fra 50 anni non ci sarò io a raccontarvi la storia, però sarà una bellissima storia. Viva il Colbe! Viva il Colbe! Viva il Colbe!